primo maggio festa di lavoro e dei lavoratori una festa un po strana una festa che non è assolutamente mai nella vita divisiva ma una festa che non sentiamo più come una volta però in tanti mi avete scritto in tanti alcuni diciamo le cose quest'anno mai descritto primo maggio che ci suggerisci realmente ho detto impegnativo io vi suggerisco di legge innanzitutto che che fa sempre bene però se proprio proprio devo parlare di un progetto bentornati cari lettori come state spero tutto bene io sono loka dj questa storia dell'altra vita qui parliamo di fumetti di cose nerd ci prendiamo anche nel sociale perché poi alla fine la lettura è anche questo impegno nel sociale nel tessuto politico nel tessuto economico di questa micro macro mega società e che cosa vi potrei mai suggerire di leggere vabbè innanzitutto una cosa molto molto populista ma la devo di leggiamo italiano diciamo più italiano diamoci la possibilità di leggere italiano ma non in italiano di leggere qualcosina anche se siamo appassionati di letture estere che possono essere amicane franco belga giapponesi orientali in generale eccetera eccetera diamoci un una anche soltanto una lettura italiana lettura soggettata sceneggiata disegnata stampata edita qua in italia da un editore italiano da artisti italiani che ci fa un gran bene uno perché si parla spesso proprio di noi ancora più da vicino e non dei macro temi universi anche dei macro temi universali ma anche più di noi due perché facciamo un favore a tanti artisti che magari rischiano di non emergere non emergere tanto se proprio proprio dovete cioè nel senso del proprio proprio dovete pare brutto ma se volete farlo prediligete realtà più piccole realtà più autoriali in realtà più diciamo self quasi ok ce ne stanno ce ne stanno tante che propongono cose belle da leggere cose molto interessanti e quindi non avrete che l'imbarazzo e la scelta ma anche e qua vado la sparo grossa anche un bonelli ogni tanto anche un bugs comics ogni tanto anche un levato al labs ogni tanto o o la quota italiana di salda press che adesso ne edita tanti la quota italiana di coconino che ne edita tanti oblomov in tanti stampano non soltanto no anche panini è molto molto limitata star comics cioè prediligiamo anche nella nostra quota mensile di letture qualche cosa pescato dal nostro bel paese non vuole essere populismo la voglio dire a me quello che interessa meno è quello di preservare una ragazza non me ne può frega de meno la multiculturalità la multietnicità è valore è bellezza è l'arcobaleno letteralmente però in questo caso è importante anche pescare dai lavoratori di casa nostra che lavorano a casa nostra e che non vanno fuori a lavorare ancora un discorso sembra populista però non lo è non lo è analizzato bene non lo è ma allora per questo primo maggio sono andato a fare una cosa che volevo fare da un sacco di tempo che non avevo ancora fatto e che mi hanno aiutato a fare ve lo faccio vedere ve lo faccio vedere ragazzi per questo primo maggio io vi dico sta cosa la review design e è italianissima italia ovviamente italianissima è un giornale a fumetti letteralmente un giornale a fumetti è un fumetto giornalistico d'inchiesta che merita merita tanto merita tanto perché è una costola della review design e francese ma allora ma allora ci dici stupida no però italianissima cioè questa è pensata scritta disegnata edita in italia quindi è italianissima parla di attualità attraverso il fumetto e non è facile tutte le inchieste che ci sono nelle oltre 200 pagine di volume sono tutte quante fatte da un disegnatore e un giornalista e revisionate da la redazione della review design e fino ad oggi sono usciti mi pare 8 volumi in tutto ci sono due stagioni un volume ogni tre mesi ho comprato in pdf lo preferisco scusate lo preferisco anche se effettivamente ste copertine si disegni andrebbero visti in carta però così è più semplice anche per me andarmi da trovare ora in questo primo maggio o sto posto questo video non è sponsorizzato pensate che mi hanno sponsorizzato state a pensare male non sanno neanche che lo sto facendo in questo primo maggio ho scoperto proprio adesso adesso si dice adesso mentre pensavo a sto video che fanno un sacco di offerte oltretutto c'è l'offerta primo maggio un pack arretrati di danno quattro numero a 40 euro invece di 80 fisici e non non in pdf che potrebbe essere una buona cosa per recuperare un'intera annualità ma poi recuperare anche numeri singoli sparsi storti eccetera eccetera come ti pare 1 3 7 5 lo puoi fa puoi fare anche altre cose oppure quello che ho fatto io ho preso tutto il primo anno in pdf 25 euro mi è sembrato un prezzo meravigliosamente economico non perché gli debba fare pulci perché l'ultima cosa che vorrei fargli però appunto riassume le due cose che preferisco il fatto della praticità e il fatto dell'economicità poi se loro lo vendono a quel prezzo evidentemente ci riescono a guadagnare comunque e in questo caso essendo dei pdf sono anche più eco friendly da sto punto di vista poi semmai vorrò recuperare appunto i volumi vedrà un attimo come fare anche per recuperarli anche perché quelli la io non avrei la possibile andarli a prendere uno dei tanti punti sparsi in italia in cui si possono prendere i volumi della revue desine ma avrei dovuto farmi farmi rimandare un corriere che arriva che porta e cioè non mandava di farlo in questo caso quindi ho preferito così anche perché l'abbonamento alla revue desine di un anno costa 69 euro invece di 78 spese spedizione pagate puoi contribuire però le spese spedizione se ti senti abbastanza abbastanza generoso ma veniamo vogliamo vedere un numero qualcosa allora il primo numero il primissimo numero dell'estate 2022 l'informazione a fumetti ci sono un po di inchieste anche qui direttamente dalla dalla copertina non so se devo di prima pagina copertina perché è a metà no editoriale che ci dirà qualcosina allora ci sono fiori sull'osso tra treni e monti quindi lo sapevamo musica con nennio morricone cinema da un bailo cucina patate su marte il nervo della guerra storia incredibile ecosistema dove dove nel saremo leggevo sanremo dove saremo nel 2030 il campo dei miracoli era solo un gioco vogliamo vedere qualche tavola ecco qua c'è allora un una piccola introduzione in questa prima storia qualche tavola io sto vedendo per voi con voi per la prima volta perché mi sto a consigliare sta cosa che me l'hanno consigliato in tanti però effettivamente io non l'avevo l'ho presa adesso insieme insieme a voi segni molto carini molto carini però non è che posso far vedere tutto quanto la seconda è in bianco nero ma veniamo un ricone forte beh ragazzi a me sembra sembra veramente un buon modo guardate che bella questa che cos'è questa qui il treno alta velocità parliamo di tav parliamo di tav ovviamente queste sono inchieste giornalistiche siamo nel periodo in cui il giornalismo è vessato di essere sempre al servizio di qualcuno di un o di un altro non è sempre così anche perché la review design e si fa molta molto vanto del fatto che è completamente indipendente non ha alcuna pubblicità e non alcun gruppo editoriale grosso dietro le spalle quindi riesce a lavorare dando almeno così dicono loro ma io ci devo credere perché voglio dire sono anche persone abbastanza importanti all'interno del mondo del fumetto dando lavoro a scrittori e a disegnatori con la giusta retribuzione e oltretutto non avendo alcun tipo di pubblicità all'interno del 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 volume loro dicono che possono parlare come vogliono e nel modo che più gli aggrada di quello delle varie inchieste che fanno io vi dico che anche con la pubblicità si può fare lo stesso è tutto questa cosa qui contro la pubblicità eccetera io veramente non ce la trovo però meglio meglio così meglio che si riescano a sostenere senza pubblicità è più facile per loro riuscire a lavorare con più tranquillità anche una tranquillità che certe volte uno si crea da solo certe volte ti fai dei problemi da solo no quando ti 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 suggestioni da questo tipo di cosa quando qualcuno ti finanzia però a volte non non è così esistono ancora gli editori che o i finanziatori pubblicitari che vogliono la pubblicità è interessante interessante quindi niente detto questo che altro dirvi un video molto lungo preso appunto i primi quattro volumi adesso me li vado me li vado sicuramente a leggere oggi mi leggo qualcosa che mi interessa più di altro perché poi la cosa carina è anche questo che si può spaziare da storia da inchiesta a inchiesta non sono mai troppo lunghe e impegnative e soprattutto si chiudono tutte quante siamo parlati di un'inchiesta seriale che va che viene scritta su più più numeri più albi con il pdf riuscite ad averlo otto giorni prima della pubblicazione ripeto ogni tre mesi ne esce una mentre con il gabbia alimentare interessante anche questa in certe volte quando si diventa troppo consapevole si è anche è anche un problema in questa società dicevo il pdf vi arriva otto giorni prima direttamente per mail voi ve lo scaricate io chiederei a quelli della review design e però in coda al video se c'è qualcuno che mi sta vedendo di loro gli chiederei anche di cercare di fare un po come le vallette un lapse nel senso sì ho comprato il pdf però poi voglio prendermi il volume cartaceo datemi una certa scontistica sul volume cartaceo visto che quantomeno le spese di di creazione di studio della storia dei disegni ecc le ho già pagate con il pdf sarebbe una cosa carina perché per esempio adesso potrei recuperarmi alcuni dei volumi che più mi sono piaciuto pure me li potrei recupera pure tutti quanti sarebbe una cosa carina vabbè detto questo che altro dirvi primo maggio leggete e leggete consapevolmente leggete italiano quest'anno e raga se lavorate se avete lavorato se avete dovuto lavorare questo primo maggio sappiate che per me la festa dei lavoratori è tutto il giorno l'importante è averci un lavoro dignitoso che possa portare gioia alle vostre giornate perché il lavoro questo deve essere deve portare gioia alle vostre giornate noi ci vediamo domani per il solito no noi ci vediamo stasera perché adesso pubblico e noi siamo esterni quindi oggi vi beccate due video lunghi ci posso fare niente ciao belli samuel sterna leggete italiano italianissimo samuel sterna però ambientato a edimburgo vabbè la finisco ciao ciao